segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te la vedo un po commossa presidente dai dati nostra il nostro possesso si profila una vittoria io la prima presidente della regione sardegna sono molto contenta della storicità di questo risultato della prima donna presidente nella storia della sardegna e soprattutto sono contenta di essere qua con giuseppe conte con ellis line tanto c'era che non scommetteva neanche che arrivassimo fino a qui e quindi c'è molta gioia molta gioia e anche devo dire con orgoglio la prima volta che il momento 5 stelle esprime un presidente di regione ovviamente e anche in prospettiva futura ci fa ben pensare che quando c'è un progetto serio c'è un lavoro con le comunità ovviamente di riferimento raccogliendo le loro istanze esigenze si possa ottenere dei risultati anche risultati così sorprendenti rispetto alle aspettative questo ponte immaginario che lei sta facendo in queste immagini è un ponte immaginario stasera è un ponte che sui lungo che collega a sardegna a sardegna a roma il campo largo continua questo è un campo giusto cambia il vento per il governo si cambia il vento e come se solo uno si fosse candidato sarebbe andata così ugualmente bella ciao bella ciao bella ciao 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 questo è il fiore del partigiano morto per la libertà ciao